Ciao Lega Nerd, siamo al Palazzo Ducale di Lucca, dove nell'ambito del Lucca Comics & Games 2019 sono state organizzate moltissime mostre davvero interessanti. Alcune di queste sono qui alle mie spalle, c'è la mostra di Emil Ferris, di cui vi parleremo in uno speciale, abbiamo anche incontrato l'artista, le abbiamo fatto qualche domanda. Poi ci sono la mostra di Armand Baltasar, Barbara Baldi che ha fatto il poster, c'è una collaborazione, un DJ crossover tra Lucca Comics e Radio DJ, in cui Linus e gli altri speaker della radio sono stati trasformati in fumetti da vari artisti. Sono esposte opere di Alessandro Bilotta, Jeffrey Katrin Jones, insomma ce n'è per tutti i gusti. Vi porto un po' nelle sale del Palazzo Ducale di Lucca e vediamo un po' cosa abbiamo visto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per vedere queste mostra c'è tempo fino al 3 novembre, quindi io direi che vi dovete affrettare, perché ci sono delle cose davvero davvero molto belle e interessanti e quindi correte a Lucca.